Buongiorno a tutti sono Davide della NINCAR di Vaiano Cremasco e volevo comunicarvi che questo mese, nel mese di dicembre, abbiamo selezionato per voi su un gruppo di vetture in pronta consegna in stock delle offerte dedicate fino a 750 euro per le vetture presenti con targatura nel mese in corso. Questo è un nostro regalo di Natale che vogliamo fare a tutti i nostri clienti. Buongiorno, ciao Davide. Buongiorno. Ciao Bessa. Buongiorno, stavate raccontando le offerte Renault, giusto? Esatto. Ebbene, anche in Dacia abbiamo delle ottime offerte. Penso che i clienti Dacia vogliono sempre pagare di meno, però noi insistiamo nel fargli pagare sempre di meno, ancora meno, ovvero per quanto riguarda lo stock Dacia questo mese, solo nel mese di dicembre, ci sono fino a 1850 euro di sconto, solo sui nostri pronta consegna. Dovete anche affrettarvi perché pronta consegna abbiamo lo stock limitato e potrebbe esaurirsi. Però io ho un'idea, potremmo provare a chiedere anche al nostro collega Luca se per caso anche nei veicoli commerciali abbiamo delle offerte. Andiamo a trovare Luca che secondo me potrebbe trovarsi... Eccolo. Ciao Luca. Ciao Luca. Lei mi ha presentato le nostre offerte per quanto riguarda Renault e Dacia. Ma tu nei veicoli commerciali hai qualcosa da comunicare? Sicuramente sì. Oltre ad avere tutta la gamma in pronta consegna, facciamo anche promozioni per la fine dell'anno. Vi raccomando, tenete presente che noi siamo Ninicar, siamo ovviamente anche veicoli commerciali pro più, quindi specializzati in veicoli commerciali. Adesso dove andiamo ragazzi? Passiamo a vedere il misto. Noi abbiamo presentato le nostre offerte per quanto riguarda Renault e Dacia, anche i veicoli commerciali. Tu hai qualcosa da dirci? Noi questo mese di dicembre abbiamo predisposto forti vantaggi soprattutto su vetture in casa in pronta consegna dove offriamo una supervalutazione dell'usato fino a 4.000 euro in più rispetto alla quotazione. E vi ricordiamo che sempre per tutto il mese Nissan ha la possibilità di garantire fino a 10 anni di garanzia barra 100.000 km su tutta la gamma. Per cui vi aspettiamo. Adesso andiamo a vedere dove è finito Ale. Allora abbiamo detto tutto? Tutto. Quindi ricapitoliamo. Promozioni su autovetture nuove Renault. Dacia, Nissan, siamo aperti domenica 16, vi aspettiamo. Promozioni anche sulla nostra aziendale, giusto? Giusto. Quindi che dire, anche sui veicoli commerciali, bravissimo, mi raccomando, super ammortamento e al 130% finisce quest'anno. Affrettatevi. Ragazzi, quest'anno il regalo di Natale, fatevelo qua, fatelo in Iniga. Vi aspettiamo. Grazie. Ciao. 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 Ciao.